Ma ne so, e ne finiamo per il game! Ma vi insegnerò una tecnica ancestrale molto efficace Che vi darà la possibilità di combattere contro di lui Prima di tutto, lavate bene le mani con acqua e sapone più volte al giorno Ah, Adrion, anche tu ti stai lavando le mani? Sì, è importante per proteggere se stessi e gli altri Già, è importante proteggere se stessi Quando tossite o starnutite, fatelo nella piega del gomito, mai nella mano Starnutisci benissimo, Adrion Grazie, Marinette Niente più contatti fisici né baci finché il virus non va via Eh? Niente più baci, veramente! Chanoir! Desolato E infine, usate soltanto fazzoletti di carta E dopo averli utilizzati, gettateli in un cestino apposito Ecco Oh, grazie! Prego, Marinette Questo è ciò che ci aiuterà a sconfiggere il virus Le precauzioni più semplici sono le più efficaci Portate questo messaggio a tutto il mondo Sarà fatto, maestro Fu Posso prenderlo in prestito? Proteggi te stesso, la tua famiglia Proteggi tutti quelli che ami E insieme riusciremo a sconfiggere il virus 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 Grazie a tutti.